Benvenuti in un nuovo video di Evolve Non ho ancora provato come gioco Sì, ok, sono buttato Oh, un green skin Purtroppo la geretta è sopra in alto alfa Non so cosa accade Cos'è? Non lo conosco Gioco Assalto Medico Mostro Porto Trapper Non lo so L'ho messo così a casa E' un fine Fine game, vai Casuale proprio Poi io giusto provare questo gioco come è Mai provato, abbiamo partito Quindi Sicuramente c'è una grafica che farà un po' schifo Se avrà messa la grafica al massimo Solitiamo questo computer Perché non ci sarà mai più Perché sarà Esploso Ho visto un paio di gameplay e è tipo troppo bello Graficamente Come gioco non saprei L'ultimo gioco più recente è Lord of the Fallen Il penultimo è tipo L'ultimo patch di War of War Perché non è assolutamente pesante Vabbè Perfetto capire E diciamo che Lord of the Fallen lo reggo basso A 20 fps nemmeno A minima scusate E scordatevi di gameplay da sopra perché non ci so giocare Non per cattivere però Ho provato a fare tipo il primo livello Utilizzando solo Cioè ho provato ad arrivare fino al primo boss E mi fa che il GG è semplicissimo Io ci sono arrivato a fine del primo livello Sì Senza mai con tre pozioni E ho continuato a morire contro il boss Quindi ho abbandonato il gioco direttamente E qua invece non trovo una partita Perché? Ma è iniziata la beta giocata No nessuno Era Ah boh Riprenderò il video appena si sveglia Allora dopo Questa sarà la volta buona Proviamo No nessuno No nessuno No nessuno E vabbè E vabbè Manco noi è a H E sono andato Annaccio No nessuno No no Tu non hai capito nulla A posto E vabbè Quest'altro che se la canta di sottofondo Non va bene però E vabbè E vabbè A posto Io ci canto sopra Magari non si ne accorge nessuno Ci canto sopra Che ho detto Ci parlo sopra Ho detto ci canto Non mi ricordo No vabbè Dai Amore Amore di pinguina Colpisce ancora Ah chi ti nemmeno li vedi Ancora quell'altro Uai Non fa casino Scusate Stavo cercando il mio cellulare Allora Che aspetto un messaggio Da una Determinata persona Se andare o non andare Da una parte Eh sì Gli ha detto Mamma mia Che canzone Buono Fai schifo Eh buh Ah ancora Eh vabbè Quell'altro Io ho dato il porco Te sai zi Te muuti Te muuti Te muuti Muuta Ah Select Sorry Ang I have Toa minuut Adesso non c'è il Kraken Però No vabbè Quest'altro Che mi chiedo Se vado a Luca Comics Sei molto simpatico Grazie Del tipo Non ci volevo andare Ma va No vabbè No vabbè Dimmi che non lag sto giro Eh la grafica è peggiorata si però non so se lag non lag Se lag ancora niente E' piccolino effettivamente il monstro Ready to fire E' piccolino effettivamente 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 Per forza E' piccolino effettivamente 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 No, sta circolando lì! Come cambiare arma? Non ho capito come si cambiare Scusatemi se non si capisce molto da questo gameplay però ci ho provato almeno Bravo! Non so perchè sta pianto non mi piace Ehi dove stavano andando scusa. Ehi dove stavano 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 scusa. No diciamo che... ci rinuncerò a rigiocare la beta. Se la fa già così pesante figuriamoci la beta. Ehi dove stavano scusa. 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 Ok. No niente basta. Diciamo che più o meno vi ho fatto vedere quanto è pesante sto gioco. Facciamo così dai. Quindi dai per questa partita è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.